è dedicata a una canzone che si chiama Son Tornato che ha come sottotitolo ma era meglio di no nel senso che racconta di una sorpresa insomma non sempre le sorprese funzionano è meglio evitarla a volte è meglio fare una telefonata prima esatto dicevi che tu ci pensavi a me mentre eri sola laggiù che ti mancavo davvero amor mio se ci fossi qui tu mi son detto molla tutto c'è tempo per lavorare ho preso il primo volo all'alba ti faccio una sorpresa e tu felice sarai Son Tornato ti ricordi di me che sorpresa si lo so Son Tornato così presto perché e che domande che mi fai di corsa faccio le scale a tre due piani e poi ci sei tu ripenso al tuo così presto e non è mai troppo presto per me io ti sposerei domani oggi o un anno fa ma che strana la tua voce qualcosa non quadra ma sono arrivato oramai sono tornato ma che sfiga però c'è qualcuno ma chi è ho capito ti giustifichi ma tuo cugino lui non è oh 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 Ma chi è? Ho capito, ti giustifichi ma tuo cugino, lui non è, son tornato troppo presto però, che sorpresa, ora so che tornando così presto date la sorpresa. E per me, per me, per me.